Al Paglia Lunga di Fregene, l'Inghilterra si aggiudica la terza edizione del torneo Il Calcio e Rosa, organizzata dal Comitato Regionale Lazio. La squadra di Barber ha battuto di misura le cugine d'oltremanica del Galles, grazie alla rete nel secondo tempo di Gilroy. Galles pericoloso al sedicesimo con il calcio di punizione di Griffiths, sul quale Clerc è attenta. Le inglesi rispondono con Gilroy che sciupa una buona occasione a tu per tu con il portiere. Nella ripresa all'incrocio dei pali colpito da Roberts è il preludio al gol dell'Inghilterra che arriva all'undicesimo con il gran tiro di Gilroy. Inglesi in vantaggio e in controllo sulla partita. La Gilroy manca il raddoppio, ma il triplice fischio della signora Sara Mainella di Roma 1 dà il via ai festeggiamenti delle inglesi che riscattano i connazionali del calcio maschile e vincono il torneo Il Calcio e Rosa. Grazie a tutti!